di Space Marine. Oggi non registro. Ma ho anche il naso screpolato. Poi senti che voce d'adeficio. Il martello dell'imperatore. Ma perché? Adesso lo dico così, proprio via. Oh, è caldo. No, era più giù. Eh? Eh? Ciao, Dilli! Sì, vabbè. Eh, vabbè. Vabbè, vado, dai. Dai, su. Sì, dopo, poi c'è l'atletica, poi adesso lo voglio... Mi sta pervenire uno starnuto. Non da parte. Ecco, dai, vado che sto registrando, dai. Ciao. Ti è passata la voce? Ti è saltata la voce, sì. Lord Comandante Militante. Gatz Gultrack. I soldati della legione d'acciaio di Armageddon hanno tutti la faccia di Bruce Willis. E una di Steve Buscemi. Armageddon è famoso per due cose. Liv Tyler. L'asteroide.